Le persone autistiche devono essere delle risorse per la società, a dirlo è la ministra per le pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti, ospite a Pescara della Fondazione Paolo VI, alla vigilia della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Le istituzioni dovranno garantire assistenza sanitaria, sostegno economico e l'inserimento nel mondo del lavoro, ha detto l'esponente d'Italia Viva. L'impegno della politica delle istituzioni deve essere sempre più quello di promuovere la dignità di tutte le donne degli uomini e le bambine dei bambini e di costruire quei percorsi reali di pari opportunità che permettano a tutte le bambine e bambini, anche a chi soffre di questa malattia, di poter, di questo disturbo diciamo dell'apprendimento e dello spettro autistico, di poter portare un contributo reale alla nostra società, un accompagnamento alle famiglie attraverso servizi adeguati a livello territoriale, questo è un passaggio fondamentale che deve vedere tutte le istituzioni, tutti i livelli coinvolti, un sostegno anche di carattere economico, ricordo in particolare che per esempio nella riforma del Family Act ci sono indicazioni specifiche anche in questa direzione, ma anche promozione di percorsi di inserimento lavorativo che siano adeguati ed efficienti, proprio in un sostegno integrato dell'accompagnamento della persona fin dai primi anni di vita all'età adulta. Alla presenza dei politici locali, dei medici, dei rappresentanti delle associazioni e del clero, l'incontro di oggi è stato occasione anche per fare il punto su quanti scappano dalla guerra e chiedono rifugio in Italia. Sono circa 80.000 gli ucraini già giunti nel nostro paese, quasi il 40% a meno di 18 anni. E se tra i profughi ci fossero persone affette dal disturbo dello spettro dell'autismo o con altre particolari necessità, la ministra non ne ha precisa contezza, ma il governo è pronto ad accogliere, garantisce Labonetti. Noi vogliamo mettere in campo la straordinaria ricchezza della rete di solidarietà del nostro paese, ma anche le strutture sociosanitarie, le strutture educative che devono essere a loro disposizione. Sono bambine e bambini e famiglie che arrivano in Italia e devono sentirsi a casa loro. l'ho sempre detto, non basta una casa per sentirsi a casa, servono servizi integrati e laddove ci dovessero essere situazioni di questo tipo o altre situazioni, di altre patologie o di altre esigenze particolari, l'Italia sarà pronta a garantire i servizi necessari.